Non un elenco di eventi ma un progetto vero e proprio per la candidatura dell'Aquila Capitale della Cultura 2026, un progetto che riguarda gli appennini, l'area interna e territori vicini come il Comune di Rieti. Era presente in conferenza stampa il sindaco Daniele Sinibaldi con l'occasione svelato anche il logo che accompagnerà l'Aquila in questa sfida. L'Aquila parte già da una base ottima quella della scorsa volta e ci riprova con un progetto di sviluppo del territorio che va a costruire un modello che può essere replicato anche da altre parti. Noi siamo convinti del lavoro che abbiamo fatto insieme alla città di Rieti, all'amico e collega Daniele Sinibaldi, siamo convinti che l'Aquila insieme a Rieti, insieme ai territori delle aree interne possa recitare un ruolo fondamentale per l'intera nazione partendo dalla cultura. Questo dossier è anche qualcosa in più, non è un cartellone di eventi come talvolta se ne sono visti in giro. Questo è un progetto di sviluppo territoriale, è qualcosa di più, la candidatura è una base di partenza. Con l'anno solare in cui si svolgeranno le iniziative in caso di vittoria non si bloccherà però il progetto, si lascerà a disposizione della città come una sorta di programmazione culturale. Sarà una bella sfida, il gruppo di lavoro è composto dai professori Alessandro Crociata e per Luigi Sacco. I punti cardini sono quelli di attivare per la prima volta un modello di sviluppo a base culturale che coinvolga tutto il territorio, un'area vasta e che interessi molti paesi che caratterizzano l'Italia appenninica che da soli, nonostante avendo una grande dotazione di capitale culturale e territoriale, non hanno appunto la portata per partecipare a questo sviluppo. Il sindaco di Rieti ha posto una questione, non solo il rilancio culturale di due territori che hanno delle ferite ma va rimesso al centro il tema dell'Appennino Centrale, al centro appunto del dibattito nazionale. La Regione Abruzzo ovviamente sostiene l'Aquila. La Regione Abruzzo sostiene sempre le candidature delle città abruzzesi, lo abbiamo fatto con Pescina arrivata tra le finaliste, una prova molto onorevole, è un progetto molto bello, parte del quale la città dell'Aquila saprà anche raccogliere e ripresentare. Io sono molto ottimista sul risultato finale, c'è una candidatura che sta partendo con una grande forza e soprattutto la forza del territorio che è persino più ampio di quello regionale.